Luca Tomio è uno storico dell'arte, in particolare uno studioso dell'opera di Leonardo da Vinci, il genio assoluto, il genio massimo del rinascimento italiano. Due anni fa ha fatto una scopetta che ora sarà presentata dopo ulteriori indagini a un convegno internazionale. Il disegno di Leonardo Paesaggio con fiume del 1473 non raffigurerebbe le terre di Valdarno, così come si è sempre pensando, bensì la cascata delle marmore. E oggi Luca Tomio è qui con noi in studio. Buongiorno e benvenuto. La prima cosa che le faccio raccontare è che questa intuizione è arrivata da un dodicenne, che guarda caso è anche il figlio del qui presente. Ebbene sì, spesso i bambini, compresi i miei figli, fanno domande bizzarre. Il mio figlio più piccolo qualche giorno fa mi ha chiesto come partoriscono le meduse. Io non ho potuto, ho sgranato gli occhi e non ho potuto dargli risposta. L'altro mio figlio, all'incirca poco più di due anni fa, durante una visita agli uffizi, e guardando il famoso disegno, appunto che è famoso perché è il primo, è la prima opera certa, è l'opera giovanile di Leonardo, guardando il punto in cui la cascata sgorga, e notando che sgorga da una trincea artificiale, mi chiese in maniera molto candida, papà, ma non può essere questa la cascata delle marmore? Dove magari era andato in gita e quindi ha visto. Bravissimo, ben quattro o cinque gite perché la scuola ternana che ha sempre frequentato ha fatto ben conoscere il territorio ai bambini. Da lì a me viene in mente la favola del re nudo di Andersen, un bambino che da solo vede tutto. Come è possibile che gli storici dell'arte, nel corso dei secoli, non si siano resi conto di questa possibilità? Allora, molto spesso, nel corso dei secoli, intorno alle figure degli artisti, nascono come dei miti, e più che mai su Leonardo, nel corso dell'Ottocento, si sono focalizzati una serie di miti romantici. Uno di questi era appunto che lui avesse realizzato questo disegno sulla porta di casa, come se fosse un disegno di paesaggio, come un impressionista antelitteram, e quindi che avesse realizzato una porzione della Val d'Arno. Questo è assolutamente impossibile perché proprio dal punto di vista geologico, e qui è intervenuto il professor Petronio dalla Sapienza, che io interpellai per capire se l'intuizione del mio figlio avesse le basi, mi disse subito che era impossibile che fosse il paesaggio geologico della Val d'Arno, ma coincideva con il paesaggio del massiccio umbro marchigiano. Quello è il paesaggio tipico della cascata delle marmore sulla destra, e a sinistra la Val d'Arno è bellissima, è dolce, è arrotondata, non ci sono cascate, non ci sono guglie. Questo tipo di scoperte in realtà fa anche capire non soltanto cosa il disegno rappresenta, ma cosa ha rappresentato questo paesaggio nella formazione di Leonardo, che quindi è transitato in terra umbra. Tra l'altro è molto importante contestualizzare la nascita del disegno, perché non è un disegno paesaggistico, non è un disegno en plein air antelittera, ma è la raffigurazione di una porzione della diocesi di Terni, e questo è stato determinato in base alla determinazione del montaggio del disegno, perché noi qui abbiamo nella parte destra la cascata, e nella parte sinistra ciò che si apre alle spalle della cascata, cioè la Valle di Terni con Papigno, l'altura di Colle Luna, i Monti Martani. Questo è dunque un paesaggio emblematico, era un paesaggio, quindi il disegno è presumibilmente stato fatto per una funzione pubblica, molto probabilmente diocesana. Ecco, a questo proposito, insomma, questo paesaggio, la scoperta di questa possibilità, avvicinerebbe Leonardo a un'altra figura umbra importantissima, proprio quella di Francesco. E questa è la vera scoperta nella scoperta, perché al di là delle implicazioni storico-artistiche di questa scoperta, la data 1473 è molto importante per tutta la pittura rinascimentale umbra, Leonardo viene da Roma, non arriva in elicottero alla cascata delle marmore, viene da Roma e torna forse a Roma. Ma il dato più importante è che lui era in Umbria non da solo, molto promuovibilmente con Perugino e Piermatteo D'Amelio e i suoi compagni di bottega che però erano di casa in Umbria, e la loro funzione era quella di riprendere i paesaggi francescani. Perché oltre alla Valle Umbra rappresentata in questo disegno, nella Madonna con Bambino della National Gallery, quella con i due angeli, fatta a due mani da Leonardo e da Perugino, compare la Valle Reatina, la Valle Santa Reatina. Quindi il loro percorso in terra Umbra è stato un percorso, anche davvero fisicamente, hanno ripercorso i cammini francescani, ma anche davvero nel dettaglio, tra Stroncone e Calvino e l'Umbria, da lì poi a Narni e poi ancora ad Amelia. C'è una convergenza di questa scoperta, nel punto in cui la massima genialità italiana coincide con la massima spiritualità italiana. San Francesco e Leonardo. È come se da un dipinto, da un quadro, da un disegno, noi imparassimo a leggere la biografia a cui non avevamo mai pensato di questi grandi dell'arte. Questo tipo di scoperta, che tipo di riflesso avrà, secondo lei, a livello internazionale? Teniamo conto che nei primi vent'anni di Leonardo, nonostante la bibliografia sconfinata su Leonardo a livello mondiale, noi abbiamo pochissime informazioni, pochissimi dati catastali, non abbiamo di dove è nato e dove è vissuto, non abbiamo né un disegno né un rigo, nulla. Questo era già comunque un documento molto importante per la biografia di Leonardo, perché è il punto di inizio. Tra l'altro anche perché è firmato, è vergato, diciamo, con la data 5 agosto 1473, in alto a sinistra, quindi è il primo disegno davvero autografo, è la prima opera sicura di Leonardo. Il poter aver adesso determinato che questo disegno è stato realizzato in Umbria e quindi poter collocare Leonardo in Umbria nel 1473 significa dover riscrivere non solo il percorso giovanile, di Leonardo, ma si deve anche riscrivere l'importantissimo ruolo che l'Umbria ha avuto tra Roma e Firenze. Ma questo è successo anche per Giotto. Il Rinascimento non è mai stato, nonostante Vasari e nonostante i Toscani siano molto toscano-centrici, il Rinascimento nasce da una filiazione tra gli artisti fiorentini, Giotto e Leonardo, che vedono Roma e coltivano questa sovrapposizione in terra Umbra. Grazie a Luca Tomio, diamo un nome al figlio maggiore che ha avuto quest'intuizione. Niccolò. 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 Gabriele l'abbiamo già citato per le meduse. Non abbiamo risposto per le meduse.